Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio spiegarvi in termini semplici tutto ciò che riguarda l'azoto e cosa sono esattamente i nitriti e nitrati e la loro importanza in acquario. Partiamo prima dalle basi. Tutti gli scarti organici, ad esempio scaglie di cibo, cadaveri e deiezioni, sono composti da diverse molecole organiche, tra cui le proteine. A differenza di zuccheri e grassi, le proteine sono catene di amminoacidi contenenti una molecola molto importante, l'azoto. Con il processo di potrefazione le proteine viene liberato questo azoto e subito fissato attraverso l'azoto fissazione da alcuni batteri presenti nel suolo, detti per l'appunto azoto fissatori, che producono energia sotto forma di ATP ottenendo come sostanza residua ammonio e ionio ammonio. Che cosa succede in acquario? Tutte queste molecole quindi vanno in circolo e vanno a finire nel filtro. All'interno di un filtro maturo troviamo diverse tipologie di batteri. Una prima barriera di batteri è costituita dai nitromonas, che convertono queste molecole in nitrito, NO2. Il nitrito è una molecola altamente tossica, che provoca meta-emoglobinemia, che è una forma alterata dell'emoglobina, per cui causa morte a eventuale fauna che si trova all'interno, per asfissia. In un acquario maturo normalmente il nitrito è a dosi minime, anche sotto il milligrammo per litro. Per fortuna all'interno del filtro questo nitrito viene rapidamente metabolizzato da parte di altri batteri, ovvero i nitrobacter, che convertono questo nitrito in nitrato, NO3. Il nitrato per fortuna è una molecola molto meno tossica e molto ben tollerata da parte della fauna acquatica. Seppur anche questo, in dosi eccessive, potrebbe dare problemi, e quindi anche esso viene eliminato. Le vie naturali, quindi, che concludono questo ciclo dell'azoto, prevedono la riconversione di questo nitrato in NO2, da parte di alcuni batteri denitrificanti, che viene subito riportato in atmosfera. Un'altra via di metabolizzazione di questo NO3 è direttamente come nutrimento da parte delle piante presenti. Si dice, infatti, che un acquario con molte piante possa anche essere senza filtro, tanto che è potente il filtro, appunto, biologico naturale, in alcuni casi. Ma troppo spesso le piante sono sempre poche, e quindi i nitrati in eccesso vanno eliminati con i cambi d'acqua. Ci sono poi delle vasche talmente in equilibrio che in cui i cambi d'acqua possono essere fatti anche molto raramente, anche ogni 2-3 mesi. Tuttavia, normalmente non è così. Vi siete mai chiesti come mai bisogna far maturare il filtro? Perché dicono sempre di non inserire fauna entro il primo mese dall'inizio di un acquario. Il motivo è molto semplice. Occorre del tempo per la colonizzazione dei cannolicchi da parte di questi batteri. Tuttavia, i nitromaonas sono molto più veloci nella riproduzione rispetto ai nitrobacter, e quindi noi dobbiamo aspettare almeno un mese per ristabilire le colonie di nitrobacter all'interno del filtro, per neutralizzare l'NO2 prodotto. Il momento più pericoloso, infatti, in cui inserire fauna è tra la seconda e la terza settimana, dove esiste proprio il picco dei nitriti, momento più letale in assoluto. Se si aspetta quindi un mese prima di popolare l'acquario, stiamo tranquilli che non avremo sicuramente il picco dei nitriti, e comunque non avremo livelli alti di NO2. Bene, io spero di essere stato chiaro in tutto questo argomento, e noi ci vediamo con un nuovo video. Ciao! Ciao!